ciao qui li prendi con un'altra chiacchierata di quelle improvvisate il nostro video diario stavo curiosando fra i cassetti di giocattoli ce ne sono alcuni che passo un po di tempo senza guardare per lasciarmi un po di sorpresa da solo pensate come sono ridotto mi sono incappato in questi la maggior parte di questi timbrini e gommine gravanti anche quel bellissimo temperino là dietro che visto sta coprendo la maggior parte di questi mi sono stati regalati dal fratellone un po di tempo fa si tratta dei timbrini dei dominatori dell'universo i masters ma chiaramente si riconoscevano e c'è anche qualcuna delle gomme da cancellare il discorso è che negli anni 80 era molto comune questa pratica di avere della cancelleria non solo marchiata con il nome dei personaggi più popolari ma letteralmente con le forme dei personaggi più popolari ad esempio mi ricordo che c'erano i timbrividi sui ghostbusters della filmation tutti i fosforescenti non abbiamo nessuno e vorrei metterci le mani sopra c'erano queste cosine a quei tempi in particolare il timbro era una cosa diffusissima non so perché ma ce n'erano tantissimi forse il senso del gioco sarebbe stato che i bambini scrivendo una letterina ai loro amici o ai genitori avrebbero potuto marchiare il contenuto con il timbrino che più si adattava magari allo stato d'animo del momento visto che qui ci sono frasi come sono nato cattivo ecco questo non va bene per la letterina a babbo natale ad esempio qual era lo scopo di questi giocattolini secondo voi di sicuro c'era in parte quello di voler marchiare un po di tutto con i personaggi preferiti dei bambini in sostanza i bambini che amavano tantissimi dominatori dell'universo avrebbero voluto la coperta dei dominatori dell'universo il cuscino lo spazzolino da denti e quindi anche dei timbrini per marchiare le loro letterine ma nella mia testa il senso di queste cose è sempre stato un altro erano dei sostituti in realtà pure questi non li avevamo da bambini mi sono stati regalati a fratellone dicevo però quando vedevo questo tipo di prodotti da piccolo mi ricordo benissimo la pubblicità dei timbrini e delle gomme su qualche giornaletto ad esempio quello che pensavo era beh forse non potrei avere tutti questi pupazzetti nella versione vera e propria cioè il vero Imani il vero Skeletor perché sapete i giocattoli possono essere costosi e soprattutto noi siamo tre fratelli quindi contentare tutti e tre sarebbe stato veramente un'impresa per i nostri genitori e quando un bambino non può avere il giocattolo vero beh questa potrebbe essere una soluzione più economica questo era nella mia testa cioè io ridimensionavo i miei sogni e le mie ambizioni vedendo questi come delle possibilità più più raggiungibili e in fondo guardate ci si può giocare tranquillamente la basetta farà da piedistallo io preferirei senza un bambino più molesto di me magari da piccolo gli avrebbe staccati dal piedistallino io non avrei mai fatto perché già allora pensavo e se è nato così deve rimanere così non fa per me modificare le cose che mi trovo intorno però insomma erano divertenti guardate qua Fisto wow Fisto è sempre stato uno dei miei preferiti e ne abbiamo due perché abbiamo trovato in fiera quest'altro che in realtà è un po' monco gli manca la basetta ma almeno uno completo lo abbiamo questo però è quello fosforescente wow bello Fisto anche in forma timbro ah sì è un pochino più semplificato rispetto a quello grosso da chi erano prodotti questi sembra che fossero fatti proprio da Mattei pensato un po' in fondo è una compagnia così grande che di sicuro aveva anche la sua sezione dedicata alla cancelleria è l'uomo più forte dell'universo in persona com'è guardate qui tutti i muscoletti che gli hanno scolpito ma io da bambino ci sono già andato matto per questo sicuramente sarei stato contento non come lo sarei stato con il vero i man ma insomma si accettano di compromessi e la gommina la gommina è più grande e non al piedistallo lo vedo un pochino più impedito nelle forme magari il materiale non riusciva a tennele bene quanto la plastica più rigida utilizzata per i timbri ma anche lui anche lui da piccolo mi piaceva lo vedevo pubblicizzato ma c'era la versione con una spada fosforescente che sarebbe stata più bella pace questo il suo cattivissimo nemico scheletro guardate qua la sua faccia a teschio riusciamo ancora a riconoscerla e certo che si poteva giocare anche con questi il castello di gray school non è in scala con loro ma è bellissimo ugualmente potevo metterlo là dietro in cima alla collina e giocare in prospettiva forzata in fondo una buona componente del mio gioco era quello di immaginare di fare effetti speciali quindi mi sa rimesso con i miei protagonisti qua davanti agli occhi poi avevo rimesso in distanza il mio castello di gray school temperino e poi strizzando un occhio guardando con un altro solo occhio per perdere senso della prospettiva avrei cercato di immaginare i due nemici che lottano con il castello sullo sfondo questo sarebbe stato il mio passatempo per un pomeriggio almeno andate qua c'è anche meccanek non gli hanno fatto la mazza gialla gli hanno fatta rossa ma beh è carino lo stesso anche lui insomma lo scopo per me era lo stesso delle sorpresine di giochini premium ah io non so se vi ricordate lo sprint aveva tirato fuori una promozione in cui regalava gli acchiappa fantasmi real ghostbusters della kenner in realtà la promozione funzionava in questo modo nella confezione troviamo un fantasmino di quelli che si trovavano insieme i personaggi e compilando il cartellino mettendo i punti potevamo ricevere a caso il pazzetto ore proprio in blister ma io questo non lo sapevo dalla pubblicità e io sognavo immaginavo che magari avrebbero realizzato una versione più piccola di personaggini per incastrarla dentro la confezione di sprint perché così forse saremmo riusciti a convincere i nostri genitori ad avere un pochino di quel cioccolato e dentro avremmo avuto i nostri acchiappa fantasmi questo era quello che speravo non funzionava così il concorso ma riuscimmo riuscimmo ad ottenere ho dimenticato i verbi ad ottenere una di quelle confezioni dentro troviamo grabber ghost il fantasmino di peter insomma questi sono i nostri timbrini poi cosa ci fate altri con questi intanto visto che il video è già così lascia un po' a desiderare guardate qua abbiamo non solo come si chiamava spider e c'è scritto di sicuro belli si nasce web store no perdonatemi guardate sono pieno di confusione in testa web store non gli hanno scolpito la sua corazza addosso sembra al sonoro lui e guardate qua abbiamo anche cobra canna quindi sono arrivati a fare perfino gli snake man dovevano essercene un sacco di questi timbrini so che noi non abbiamo la collezione completa dunque visto che siamo qui ho portato un foglio bianco e timbra uno un pochino siamo con web store visto che sono così stupido ad essermi dimenticato il suo nome timbra ancora certo che timbra ancora belli si nasce web store qui abbiamo un pochino questo non deve essere gizzo infatti gizzo dice tremate nemici poi qui abbiamo il mitico fisto e fisto dice vinceremo noi ok se lo dici tu poi whiplash oh whiplash perdonatemi ma era veramente orribile già da bambino lo vedevo pubblicizzato sul topolino e stentavo a distinguerlo dai tarocchi per me i tarocchi erano i sangold quelli che si trovavano in giro trema codardo ok qui abbiamo trap joe grandioso trap joe cosa dice lui cadi nella mia trappola fantastico abbiamo già tre colori diversi credo vediamo un pochino cosa dice cobra can è dritto così perfetto guarda come timbrano ancora bene sti cosi dopo più di 30 anni fantastico cobra can dice prendi questo tocca a manet arms il insomma il compagno più vissuto di he-man e gli han disegnato una faccia stranissima adesso ve lo faccio vedere è molto strano sono il più duro no non si direbbe con questa faccia che lo mio e poi prendiamo una meccanek ehi non sei riuscito bene riproviamoci ma si i due ne facciamo uno ti tengo d'occhio eccolo qui giustamente ti tengo d'occhio ci sta ci sta abbiamo lasciato per ultimi i nostri due più grandi personaggi iniziamo da scheleton che potrebbe dire solo una cosa guardate un po' sono nato cattivo e poi il mitico he-man sono il più forte ebbene cosa mai avrebbe potuto dire i timbri allora perché tutti timbravano negli anni 80 e soprattutto scrivete qui sotto cosa ne pensate cosa vedevate voi in questi prodotti per me erano veramente dei giocattolini ma l'idea di tappezzarmi la casa di un marchio non mi ha mai entusiasmato invece la possibilità di giocare con qualcosa beh quella si e lo fa ancora adesso come vedete il video non aveva molto da dire era così per chiacchierare un po' fateci sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate voi avete qualcosa di questo e forse li avevate un tempo cliccate sul bollino blu li prendi troverete contenuti anche migliori di questi in realtà recensioni e video su un po' di argomenti diversi centinaia e centinaia di video specialmente sui giocattoli vecchi cliccate sulla campanella due volte così sarete informati quando usciranno i nuovi video e seguitici anche su facebook e su instagram ciao ciao